È un progetto importante che aspetta un intervento da diverso tempo, su richiesta poi anche della cittadinanza. Cominceranno a fine agosto i lavori di riqualificazione del Giardino di Guardiella, area verde spesso oggetto di segnalazione da parte dei residenti del rione di San Giovanni per il degrado e le cattive frequentazioni. L'intervento del valore di 300.000 euro, che riguarderà anche altri spazi verdi cittadini, è stato presentato dall'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi, presenti anche il consigliere della sesta circoscrizione Paolo Perini e i responsabili comunali del progetto. Andiamo sicuramente a rendere affluibile alle famiglie e ai bambini, andiamo a riqualificarla con un lotto di manutenzione che vedrà interventi anche ulteriori in altri giardini di 300.000 euro. Andremo quindi a recintare nuovamente l'area, a spostare l'area giochi, a metterla quindi in un'area più centrale con una siepe e un recinto di divisorio, quindi per rendere completamente in sicurezza l'accesso ai bambini, con giochi anche di carattere inclusivo, verranno fatti quindi delle camminate pedonali all'interno, verranno quindi sistemate anche le griglie degli scolli d'acqua che scendono a lato, a monte del giardino, quindi anche per andare a risolvere una situazione di viabilità o di accesso comunque pedonale. Andremo a potenziare l'illuminazione del giardino, quindi per rendere questa area completamente fruibile e in sicurezza. Nel piano non è prevista un'area a sgambamento per cani che invece sarà presente nel giardino di Vicolo dell'Edera. Ci sono poi altri interventi in fase di avvio in altre zone della città. Con questo lotto invece interviene anche in Carlo Alberto con la recinzione dell'area giochi. Abbiamo poi in previsione anche la sistemazione della copertura del giardino di Carlo Alberto per 100.000 euro e interveniamo anche sulle aree fitness. Il comune sta anche pensando di creare zone verdi all'interno della polisportiva che si sta realizzando a San Giovanni.